La testa è vivente, è vivente e vivente. La testa è vivente, è vivente e vivente. Grazie a tutti. Il Natale è una consuetudine bella di tutte le persone, però per noi cristiani è un momento importante per la nostra fede, una fede che ha le radici profonde e bimillenarie nella storia di Gesù Cristo. Fare gli auguri di Natale per noi significa portare Gesù, raccontare Gesù, dire Gesù e soprattutto dire di Lui la realtà più bella che Lui ci ha portato e che Lui ci ha comunicato. L'educazione all'amore, l'educazione al rispetto, l'educazione alla vita, l'educazione alla cordialità tra di noi. Penso che questo sia il messaggio più bello e più significativo che ci possiamo trasmettere noi cristiani tra di noi, ma anche cristiani con altre persone che non condividono la gioia e la storia del Vangelo di Gesù Cristo. Questi valori della cordialità, del rispetto, dell'onestà, dell'amore, del calore, dell'amicizia tipici, fondamentali al messaggio evangelico, del messaggio evangelico, possono essere condivisi, comunicati, augurati, trasmesse gli uni e gli altri per il bene della comunità e soprattutto per la serenità delle relazioni tra di noi. Tanti auguri di Natale a tutti. Tanti auguri di Natale a tutti.